Benvenuti al primo e forse unico unboxing di Giocahost. Lo facciamo perché abbiamo tra le mani una delle preziosissime scatole di Pandemic Legacy Season 2. Ancora in inglese, confidiamo che sarà in italiano, ma per noi che siamo stati particolarmente in attesa abbiamo scelto di comprare quella in inglese per poter giocare quanto prima, per affrontare un mondo che noi abbiamo abbandonato 71 anni fa. Questa è una recensione senza spoiler, l'unica cosa che abbiamo fatto è stata leggere il regolamento per affrontare un mondo che ormai è devastato da quello che è successo 71 anni fa, cioè delle particolari pandemie hanno distrutto il mondo e noi siamo i pochi sopravvissuti che adesso devono affrontare ciò che resta. Apriamo la scatola e all'interno abbiamo un disclaimer, un piccolo messaggio di chi ha sviluppato Pandemic Legacy nella seconda stagione e ci dicono che sperano che il nostro divertimento sia pari a loro nella fase di sviluppo e la prima cosa che incontriamo è un manuale, un manuale di sopravvivenza sugli Heavens. Gli Heavens sono i porti all'interno del quale la poca umanità sopravvissuta si è ritirata, sono luoghi in cui poco a poco l'umanità è riuscita a ricostruirsi dopo la strage portata dalle pandemie. Questo è nient'altro che il regolamento che ci porta a una serie di novità all'interno del gioco che trasformano il Pandemic Legacy che noi conoscevamo in qualcosa di nuovo. Infatti non dovremmo andare a cercare delle cure ma dovremmo cercare di sopravvivere e foraggiare delle città che sono completamente distrutte dalle attività di quello che è successo durante le pandemie di 71 anni fa appunto. Il meccanismo è lo stesso, avremo 12 mesi da giocare, ognuno ha possibilmente giocato due volte nel caso dovessimo fallire nella prima occasione. La differenza sta appunto nel mondo che noi andremo a scoprire. Conosciamo all'inizio una piccolissima parte del mondo sopravvissuta, poco a poco noi cercheremo di scoprire la più ampia parte possibile del mondo per andare a esplorarlo, ogni volta cercando di migliorare le nostre abilità. E qui entra in gioco una delle parti più interessanti probabilmente della nuova stagione del Pandemic Legacy. Nella prima di queste due pagine troviamo un sacco di facce. Queste sono le facce dei nostri protagonisti. Infatti la costruzione del personaggio è uno degli elementi più interessanti della seconda stagione di Pandemic Legacy. Lo costruiremo da zero, parleremo delle sue abilità, delle sue possibili ferite per quello che affronterà come difficoltà e lo vedremo faccia per faccia. All'interno degli adesivi che noi andremo ad attaccare sul tabellone di gioco abbiamo dei numeri che anziché crescere fino ad essere la disperazione che abbiamo conosciuto nella stagione 1 diminuiranno fino ad arrivare allo zero. Noi cercheremo di sostenere delle città fino al momento in cui queste non verranno dimenticate arrivando allo zero. Avremo delle migliorie con un costo che vediamo segnato in arancione su ogni adesivo e poi avremo dei momenti in cui le cose peggioreranno. Come peggioreranno? Non lo sappiamo. Sono all'interno di queste, le regole che verranno modificate, sono all'interno come nella prima stagione di queste cartelle che poco a poco noi scopriremo e scopriremo come si modificherà il gioco. Il gioco sembra essere molto più improntato sulla modifica, sul lato legacy, sembra essere ancora più aggressivo rispetto alla prima stagione, soprattutto per quello che riguarda personaggi, che sono probabilmente l'elemento centrale della seconda stagione. Avremo dei personaggi completamente vergini all'inizio con un nome, una fotografia che sceglieremo tra quelle che abbiamo visto poco fa e un punto di partenza. Ogni personaggio partirà sempre da quel luogo e in questa sezione aggiungerà sia le sue abilità guadagnate di volta in volta oppure segnerà le sue cicatrici, i malus che lo porteranno più indietro. L'elemento più interessante è probabilmente quello di queste sette caselle da grattare possibilmente. Ogni volta che il nostro personaggio inizierà la propria azione all'interno di un posto dove c'è una malattia per cui ormai la cura non c'è, si gratterà uno di questi personaggi. C'è una cicatrice? Bene, il nostro personaggio avrà un malus. C'è un teschio? Il nostro personaggio morirà. E quindi quello che faremo sarà strappare la tessera e buttarla nella stufa. Ecco che ci troviamo di fronte perciò a un riassunto delle abilità che sono delle azioni possibili che sono simili a quelle che vediamo in Pandemic e nella prima storia di Pandemic Legacy ma leggermente diverse perché non affronteremo nello stesso modo le malattie la malattia è ormai incurabile, noi dovremmo solo cercare di sopravvivere chi ci racconterà la storia? Nient'altro che il mazzo Legacy. Di volta in volta stop, ci segnerà che dovremmo fermarci e la pausa invece dirà che ogni volta possiamo andare un pochino più avanti. Ogni volta ci verranno date gli elementi nuovi, alcune pagine del regolamento sono completamente bianche in attesa che di volta in volta queste tessere ci portino ad avere nuovi elementi del regolamento. Abbiamo carte che sono simili a quelle della stagione 1 di Pandemic e poi abbiamo elementi di gioco alcuni noti come i personaggi, altri ignoti per esempio i centri di supporto non saranno più dei luoghi in cui si possono trovare le cure ma saranno dei luoghi in cui si possono creare questi elementi di supporto alle singole città per evitare che si distruggano. Allo stesso modo questi qui sono i terribili cubetti malattia dovremmo cercare nel gioco di eliminarne il più possibile qualsiasi elemento malattia ci darà una penalità che arrivate a 8 ci farà eliminare il gioco. Allo stesso modo sotto il nostro tabellone troviamo i fantastici 8 compartimenti all'interno di ognuno noi non sappiamo cosa c'è sentiamo che ci sono elementi di gioco e questi ci porteranno a un'esperienza di gioco sempre diversa. L'ultimo elemento che possiamo scoprire davanti a noi è il tabellone. È un mondo completamente ignoto di fronte a noi abbiamo solo i tre punti di partenza i tre heavens da dove partiranno i nostri personaggi oltre a questi andremo ad esplorare un mondo che ci è ignoto non sappiamo cosa è successo con le pandemie che 71 anni fa hanno distrutto il nostro mondo conosciamo solo pochissimi elementi del gioco. All'interno del tabellone abbiamo diverse aree una anzitutto quella degli obiettivi all'interno del quale noi metteremo alcuni obiettivi obbligatori e altri facoltativi che ci porteranno a scoprire cosa fare durante il gioco e di volta in volta avremo la possibilità di andare in alcuni dei luoghi più simbolici della mappa. Giocando alcune carte questa area ci permetterà di scoprire nuove aree del tabellone quindi noi andremo a immaginiamo incollare alcuni nuovi elementi del tabellone di gioco per andare ad esplorarli. Molto è ignoto alcune cose sono familiari per chi di noi ha già giocato a pandemiche che ha giocato soprattutto la stagione 1 l'elemento legacy ci sembra molto più forte alla fine di ogni partita noi modificheremo moltissimo i nostri personaggi le nostre città, le nostre carte per andare a crescere sempre di più in quello che è annunciato come una stagione particolarmente fertile particolarmente forte nei confronti anche rispetto alla prima stagione non ne sappiamo di più perché il gusto di Pandemic Legacy sta proprio nel non sapere cosa abbiamo davanti questa parte sembra particolarmente più accentuata nella seconda stagione e noi speriamo di raccontarvi ancora quello che succederà senza spoiler il più possibile per raccontarvi un gioco che promette di essere uno dei più apprezzati di sempre